E' stato di 1800 euro il bottino di una rapina a mano armata consumata ai danni dell'ufficio postale di Coperchi a Pelezzano in provincia di Salerno. A compierla due uomini che questa mattina intorno alle 7.30, orario in cui solitamente viene aperto l'ufficio postale, hanno bloccato pistole in pugno il direttore. Accento spiccatamente partenopeo, volto scoperto, i due dall'apparente età di 40-45 anni sono entrati nell'ufficio postale. Sotto la minaccia delle armi hanno chiesto al direttore di aprire la cassaforte. Un'operazione questa non è andata a buon fine per un errore nelle procedure commesso dal responsabile dell'ufficio postale, che di fatto ha bloccato la cassaforte, facendo così sfumare il colpo. I due quindi si sono dovuti accontentare solo del denaro in contanti, presente nelle casse, circa 1800 euro. Presi i soldi, i rapinatori hanno chiuso il direttore all'interno del bagno dell'ufficio postale, poi sono andati via a piedi, fuggendo probabilmente con la complicità di un'altra persona che li attendeva all'esterno. Solo dopo una ventina di minuti alcuni clienti, trovata la porta aperta e l'ufficio vuoto, hanno dato l'allarme e liberato così il direttore, visibilmente scosso dall'accaduto. Sul posto sono subito giunte le autovetture dei carabinieri della stazione di Pellezzano e del comando di Mercato San Severino, che stanno seguendo le indagini.